Siamo molto contenti, la prima volta che partecipiamo abbiamo vinto, adesso siamo curiosi di capire cosa succede dopo. Da rifare sì, con moderazione abbiamo deciso. È stata una vittoria inaspettata, sorpresa, è la prima volta, siamo stanchi ma molto contenti. Vittoria grandissima, siamo alla seconda. È stato soddisfacente anche non aver mollato fino all'ultimo, perché fino a mezzo tempo di disposizione ci pareva di avere le idee chiare e dopo sono state stravolte. Gli spunti migliori arrivano da persone che non avendo le competenze o un punto di vista sempre fisso su questo genere di lavoro riesce a mostrarti un mondo che tu da solo non riesci a percepire perché sei chiuso dagli stereotipi che vivi quotidianamente. Direi anche che noi invece, essendo abituati a pensare e mai vedere niente nel pratico, abbiamo trovato nella loro competenza la realizzazione delle idee che avevamo in testa, che nella mente dei studenti universitari sembrano irraggiungibili. Grazie a tutti.